E' Don Vincenzo Calvosa, fino a ieri parroco di Trebisacce in provincia di Cosenza ed economo diocesano, il nuovo vescovo della diocesi di Vallo della Lucania. La notizia ha iniziato a sterpeggiare ieri sera, arrivando a conferma alle 11.30 di stamane, quando dinanzi a tutti i sacerdoti della diocesi appositamente convocati, Monsignor Ciro Miniero ha fatto l'annuncio. Doppio fermento dunque, a Vallo, per l'arrivo del nuovo presule, atteso sin da quando Miniero è stato nominato arcivescovo di Taranto, con l'incarico di continuare ad amministrare la diocesi di Vallo fino alla nomina del nuovo pastore, e presso la diocesi di Cassano all'Oionio, a cui appartiene Don Vincenzo Calvosa, in quanto è sicuramente motivo di gioia l'ordinazione episcopale di un suo sacerdote. Calvosa, originario di Laino Borgo, dove è nato il 31 gennaio 1964, all'età di 59 anni, si trova dunque ad iniziare il suo cammino da vescovo, svestendo i panni di parroco, proprio in terra cilentana. Dopo il diploma di ragioneria e qualche esperienza di lavoro, è entrato in seminario a 22 anni e a 28 è stato ordinato presbitero. Il nuovo vescovo ha affidato ad una lettera il suo primo saluto alla diocesi di Vallo. Carissimi, ha scritto, non vi nascondo la mia trepidazione, ma confido nel sostegno della mano del Signore e nella forza del suo braccio. Entro in quest'ora preparatami dal padre, confidando che continuerà a sostenermi ancora perché possa essere un pastore secondo il suo cuore e servire al meglio la chiesa di Vallo. Non sono nato vescovo, imparerò ad esserlo. Da parroco ho sempre collaborato con i fratelli presbiteri e i laici. Anche con tutti voi sarà bello camminare insieme per discernere le scelte giuste secondo la volontà di Dio per il bene della nostra Chiesa.